Sono previsti dati positivi sul fabbisogno occupazionale e le assunzioni delle imprese. A luglio 2300, 1000 verranno dal settore dell'industria e 1300 dal settore dei servizi e da luglio a settembre sono in previsione oltre 6.000 assunzioni. Sono dati che comunque sono incoraggianti ma vanno ovviamente contestualizzati con il momento. Le aziende aretine tornano ad assumere questo quanto emerge dal rapporto Excelsior stilato per la Camera di Commercio. Il settore principale sarà ovviamente il settore dei servizi ma anche il manifatturiero che in questo momento sta ripartendo e dando anche buoni risultati. Un ulteriore segnale positivo è quello della crescita dei contratti a tempo indeterminato che arrivano a rappresentare il 17% del totale assunzioni, 5 punti in più rispetto al 2020. Diminuisce invece di 2 punti il peso dei contratti a tempo indeterminato che restano comunque di gran lunga la forma contrattuale più utilizzata. Il 32% del totale delle assunzioni pianificate dalle imprese aretine per il mese di luglio verrà poi espressamente rivolto a candidati di età inferiore e 30 anni. Tra i più richiesti figurano cuochi, camerieri e le figure professionali ma anche commessi operai metalmeccanici ed elettromeccanici ed operai specializzati e conduttori di impianti nell'industria alimentare. I diplomati restano i candidati ampiamente più richiesti seguiti dagli studenti dei professionali ed infine dai laureati la cui quota diminuisce di alcuni punti percentuali rispetto agli anni precedenti.